Formiche. La mia cucina era invasa dalle formiche. Un ferramenta mi ha venduto una casetta, un insetticida dove le formiche entrano, prendono il cibo, che è un veleno, e tornano nel loro nido, dove in poco tempo muoiono tutte le formiche. Perché adesso non voglio più comprare una casetta? Commento. Perché ti ripugna distruggere le vite inferiori all'umana.